L'Insei-Toma che affronta Merlo, il triangolo con Giuliano. Tomà, 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 di tacco, mamma mia che gol! L'Insei-Toma, L'Insei-Toma, 1-0 per la Roma! Suebi, Tomà, palla dentro, il colpo in testa di Suebi! E questo è un gol meraviglioso da parte di Elison Suebi! Che gol, che gol da parte della Roma! Attenzione, Tomà, Tomà, Tomà può mettere dentro il pallone! Cross in area di rigore, il colpo di testa ad allontanare la conclusione! Ed è un gol incredibile! Un gol pazzesco da parte della Roma con il capitano! Cicotti, l'errore, Merlo! La palla verso Tarenzi, colpo di testa e c'è il gol! Attenzione! Mamma mia! Mamma mia, che gol! Pazzesco! Pazzesco Panusic! Colpo di testa e c'è il gol! Pandini! Prova a liberarsi, Tomà! Serve fuori invece, Banusic attraversa! Attenzione a cercare Marinelli, Marinelli! Gol! 4-3! Grazie a tutti!